Ciao, sono Cristiana Bortolotti, 41 anni. Un anno esattamente da oggi ho conosciuto Alfio a un Rich Now. A oggi sono 4 Rich Now, il quarto questo, e 19 corsi. Mi ha cambiato completamente la vita. Ero appena separata, sovrappeso, stavo male, depressa, venne a Rich Now. All'attivo oggi ho lasciato il vecchio lavoro che mi aveva praticamente inquinato la vita. Lavoravo 20 ore al giorno, ora sto con i miei figli, lavoro 2-3 ore al giorno, sto investendo i soldi e più che altro li sto producendo e mettendo in atto tutto quello che Alfio dice. Grazie Alfio di esistere. Ciao.